Buonasera e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento d'incontro. Questo oggi incontro è un giovane autore, si chiama Nico Frena, che abbiamo in studio, che ringrazio naturalmente per la disponibilità, ed è l'autore di questo libro, del quale vi parleremo tra poco, Il Regno di Avaros. Innanzitutto che tipo di lettura è questa? Un fantasy? Un fantasy abbastanza ovvio riguardante un mondo immaginario, adatto per ragazzi dai 13 anni in su. Però anche per persone come me che possono essere curiose, che possono dilettarsi con fantasia, anche perché sono storie che abbiamo visto al cinema e che possiamo rimettere un po' insieme. A tal proposito, c'è qualcosa che ha suggestionato il tuo racconto? Qualche film che hai visto? Qualche lettura che hai fatto? Sicuramente qualcosa ha influenzato anche perché la passione nasce dai libri che ho letto fin da ragazzo. E ovviamente molti ambienti della zona di Belluno mi hanno ispirato per la descrizione di molti paesaggi, luoghi e chi più ne ha più ne metta. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 22. E hai cominciato a scrivere questo libro quando? Ormai sono più di 4 anni fa. E come mai ti sei messo a scrivere un libro? Perché avevi del tempo, volevi toglierti da una situazione... Perché mi è saltato il matto. No, perché ho detto un bel giorno, dato che ne avevo letti tantissimi e ho visto tante persone con cui potevo parlare di questi argomenti, ho detto, boff, perché non provare a scriverne uno e vediamo cosa salta fuori. Ti interessava scrivere una storia o un racconto che avesse una morale? Volevo regalare una morale al lettore. Fin da subito volevo dare l'idea che il bene può vincere, che non ci sia sempre un malvagio, un personaggio cattivo che ha la meglio. Sicuramente quello era un obiettivo principale. E poi lo hai sviluppato un po' alla volta. Naturalmente non si arriva mai a un buon risultato se non con fatica e con dolore. Certo, bisogna lottare perché questo accada. Se il male deve vincere è perché il bene smette di lottare. Allora, cominciamo a entrare nel libro. Innanzitutto si tratta di un racconto che si svolge in un mondo parallelo. Esatto. Nel quale vengono attratti i tre protagonisti del libro, che sono Jared, Sharia o Sharia? Sharia. Sharia. E Alex? Axel. Axel, Axel. Che sono i tre ragazzi che si frequentano. Tutti e tre mi pare che abbiano una vicenda familiare un po' complessa, insomma qualche difficoltà con i... Hanno avuto qualche problema con la famiglia, qualche genitore scomparso o anche qualche genitore... Sì, insomma, comunque non una famiglia idilliaca. Ecco, tutto parte proprio perché i genitori di questi ragazzi vengono rapiti da un'entità misteriosa e una combattente, un'avversaria di questa entità misteriosa del mondo parallelo si rende conto che solo questi ragazzi possono salvare la situazione. Sì. E vengono a loro volta in qualche modo rapiti. Esatto. Purtroppo non posso specificare subito in questo primo romanzo i motivi perché la storia si protrae ancora per altri libri che sto scrivendo. Però chiaramente c'è un motivo se questi ragazzi vengono scelti per fare questo viaggio. Tu hai già detto una cosa che mi ero riservato a dire più avanti, che si intuisce, è talmente ovvio alla fine del libro, che ci sarà una prosecuzione. Perché arriviamo a un momento topico quando c'è una prima parziale vittoria sul male, però ci si rende conto che bisognerà scoprire che cosa succederà poi. L'idea, infatti, è proprio questa. Quando hai cominciato a scrivere, avevi già l'idea di fare una serie oppure alla fine hai detto ma perché ho ancora tanta voglia di scrivere, mi fermo qua e poi vediamo cosa succede? Questo discorso l'ho fatto appena ho iniziato a scrivere. Sì? Sì, sì. Appena mi sono reso conto di quanto era bello poter scrivere, ho detto non mi fermo a un libro. E i personaggi sono amici, sono persone che conosci, ti sei ispirato a qualcuno oppure pura fantasia? Diciamo che con un briciolo di narcisismo mi sono ispirato a me per il personaggio principale, però per il resto no. Solo uno o due personaggi ho preso spunto realmente da persone reali. Ma il personaggio principale è uno dei tre ragazzi o è Muta? No, no, uno dei tre ragazzi. Che sarebbe Jared. Jared, ok. Che, ecco, io ho pronunciato il nome di Muta, si scrive Mouta con la TH, si dice Muta, Mouta, io l'ho sempre leggendolo ho sempre detto Mouta. Infatti anch'io, però molti invece lo leggono come Muta, quindi lo lascio scegliere ai lettori per il momento, anche perché mi piacciono sia uno che l'altro. Il tuo libro si apre con una festa che viene organizzata a fine anno scolastico, una tradizione, in America devo supporre, no? Sì, possiamo dire che è ambientato in questa nazione. E lì succede un fatto, e sembra la cosa che tu abbia voluto sottolineare che è un'estate difficile da passare per tutti coloro che finiscono... Potrebbe anche essere vista così. Sì, però all'inizio è stato difficile proprio far partire il romanzo, bisognava trovare un modo perché per passare dal mondo nostro, al mondo reale, a questo mondo parallelo, che si chiama, c'è il nome Avaros. E mi è sembrata un'idea molto carina, molto particolare per avviare il tutto. L'idea che i ragazzi partano da una festa che dovrebbe essere motivo di gioia, motivo di divertimento, invece si ritrovano in tutt'altra situazione. Sì, perché loro partessero in questa festa, in questa festa ci sono i soliti bulli che cominciano ad abusare della propria forza, ma intervengono delle forze esterne che tacitano l'arroganza di questi ragazzi. E da lì comincia poi la storia, perché loro il giorno dopo vengono a conoscere questa mauta, che continuiamo a chiamarla così, e che è già nel nostro mondo inseguita dal male. Eh già, purtroppo, questo lo si scoprirà anche nella storia, ma l'ingresso a questo mondo dal mondo parallelo è vietato, quindi lei non potrebbe essere... Trasgredisce una regola. Esattamente. E questo la fa inseguire da un mostro che convincerà ulteriormente i ragazzi a entrare, a seguirla, oltre alla sparizione dei genitori. E questo passaggio dal mondo nostro a questo mondo parallelo avviene perché i ragazzi vengono portati all'interno di una grotta che è celata da una cascata. Questo mi ha fatto venire in mente un film del quale abbiamo parlato, che è l'ultimo dei Moicani. Infatti avevo chiesto, se l'avevi letto, se l'avevi visto, tu non l'hai visto questo film. Non l'ho mai visto, vorrei vederlo, ma non l'ho mai visto, infatti ci sono rimasto male quando ho saputo di aver copiato un'idea involontariamente. No, no, sicuramente non l'hai doppiata. E entrano in questo mondo e si avvicinano alla città, alla capitale di questo mondo. Per la verità le capitali sono due, perché c'è la capitale del buono e la capitale del cattivo. Esatto, poi comunque ci saranno altre città perché esplorando il mondo si scoprono altri luoghi, altri posti di una certa rilevanza. Ecco, comunque le principali sono già evidenziate in questo primo libro. La prima è Sienna, che è una città dove c'è un re che è buono, ma viene traviato, psicologicamente traviato, da un'anima cattiva. Oppure era già cattivo e invece finge di essere buono, questo non si sa. Bisogna ancora leggere prima di capire. Mi dai modo di attendere con ansia il prossimo capitolo. Loro devono cercare di risolvere questa difficoltà, questo cattivo che rischia di impossessarsi di questo mondo parallelo. E per farlo devono andare ad appropriarsi di conoscenze che sono su una misteriosa biblioteca. Esatto. Si trova nella città di? Namaru, sarebbe una città quasi ritenuta leggendaria o antica, come la si vuole definire, che pochi sanno dove si trovi. Mouta, chiamiamola così dai per il momento, ne ha conoscenza, conosce l'ubicazione giusta e cerca di raggiungerla in qualche modo. Assieme a un drappello di soldati con questi tre ragazzi che strada facendo scoprono di avere delle capacità, delle potenzialità, tutti e tre in modo differenziato. Anche questo mi sembra un messaggio bello che tu lanci ai ragazzi, perché dentro di voi c'è una forza, c'è una capacità che forse non avete sviluppato. Forse vi serve qualcuno. Anche una capacità unica. Una capacità unica, esatto. Perché uno di loro diventa un paladino che è una figura assolutamente esclusiva. Anche questo è un po' il tuo intento, no? L'idea è proprio di dare uno sprint anche a ragazzi che magari quando gli si chiede cosa ha intenzione di fare, dicono non lo so, non ho idee. L'idea è di spronarli a pensare a cosa potrebbero essere, cosa potrebbe rivelargli unici. C'è del meraviglioso dentro ad ognuno di noi, bisogna avere anche la fortuna di riuscire ad incontrare per strada qualcuno che ti aiuti a scoprire questo meraviglioso. Quello è vero, però il primo passo va fatto da soli. Certo, bisogna mettersi anche in gioco. Essendo un mondo parallelo, i personaggi sono già particolari, ma anche gli animali sono particolari e sono una parte importante. C'è un drago, mi ero ripromesso fin da subito che un drago dovevo metterlo nel libro. Che è un drago che si indispettisce facilmente però, sembrava un bel caratterino sto drago. L'idea era proprio di dare questo carattere al drago. Quindi non è insomma il buon drago che si vede molto spesso nei fantasy, in questo se si arrabbia sputa fuoco. È bestiale. E poi c'è quest'altro animale che tu hai descritto. Sarebbe un'umpria, sarebbe l'immagine, prendiamo un lupo, un lupo con una coda lunga che può usare come arma anche. E qui ci si rifà un pochino agli animali preistorici. Diciamolo sì, più grande però comunque con dimensioni maggiori rispetto ai lupi che abbiamo noi. Che può essere usato come cavalcatura anche. E mi piaceva tantissimo l'idea di poter cavalcare un lupo così. Non lo so, mi dava un'emozione non da poco. Ok, i ragazzi allora scoprono di avere queste loro capacità e un po' alla volta vengono messi al servizio di questa comunità che ha bisogno di sostegno. Perché dopo essere tornati dall'aver cercato, io anticipo delle cose ma poi il libro è veramente carino, non vi tolgo il piacere di leggerlo. Di aver scoperto che questa città dove c'è la biblioteca è distrutta, fanno ritorno a Siena e la trovano purtroppo distrutta. Distrutta anche questa. E scappano verso un'altra città che è una specie di baluardo della libertà. Esatto, è un'altra città che ospita rifugiati praticamente all'insaputa dell'impero ma aiuta la resistenza praticamente diciamo. E ci sarà già una confronto abbastanza serrato con l'entità del male? Esattamente perché... Non spieghiamo come va a finire. Non possiamo, se no va a finire male. No, comunque doveva esserci un minimo di combattimento un po' vincente, dove si vedevano le prime faide tra un esercito e l'altro. Ecco, è così insomma. Volevo anche evidenziare un attimo gli antagonisti del libro. Il principale in questo romanzo si chiama Anima. Sarebbe una sorta di bambino demoniaco posseduto da un demone che però è al servizio dell'imperatore Lucian, il vero malvagio della storia. E questo è il principale antagonista in questo primo romanzo. Peraltro naturalmente tutti questi cattivi hanno dei poteri straordinari che possono mettere in campo e che vanno ben oltre le capacità dell'esercito stesso. Beh, per poter dominare un intero continente devono avere qualcosa di super forza, insomma, qualcosa che gli dia la possibilità di farlo. Però i tre ragazzi si scopre che hanno dei talenti che vanno ben oltre quelli che sono gli abitanti già talentuosi, le anime, gli spiriti che tu segnali all'inizio del film. Quindi saranno anche loro i protagonisti, chiaramente, di una riscossa del bene sul male. Infatti. Una curiosità, come ti sono venuti in mente i nomi? I nomi sono sempre stati un grosso problema, anche perché fin dall'inizio se mi veniva in mente qualcosa dovevo scriverlo fin da subito, anche perché la maggior parte sono proprio inventati di sana pianta, come anche altre creature, altri animali che sono stati messi nel libro. E ogni tanto mi mettevo lì senza pensare ad altro e immaginavo come potevano chiamarsi, immaginavo la figura del personaggio e un nome che gli si potesse essere conferito. Conferito, ecco. Li scrivevo tutti, tutti quelli che mi potevano venire in mente, alla fine li rileggevo e quelli che mi sembravano più giusti lì. Senti, tu usi molto la forma diretta nel dialogo, che non è una cosa facile da fare, perché bisogna avere dei tempi, dei ritmi, bisogna immaginarsi come le persone parlano. Devo dire che da questo punto di vista sei molto, molto avanti. Grazie, sono molto contento. È una scelta che ti è venuta istintiva, che ti facilitava lo scrivere? Facilitava lo scrivere e oltre questo mi sembrava molto più reale, dava un'idea molto più concreta della situazione, di cosa stava capitando. Alla fine metti naturalmente i ringraziamenti che vanno indirizzati a più parti. Qui vedo che la famiglia, a proposito di famiglia, tu l'hai aiutato parecchio. Mi ha sostenuto molto... Il babbo Andrea, mamma Orsolina, sorella Giulia, la nonna Rita, insomma hanno partecipato, perché loro l'hanno letto assieme a te. La nonna di 85 anni che lo sta leggendo. Sono rimasto quasi commosso. Beh, è un libro che in effetti avvince, bisogna fare il salto e di farsi avvolgere da questa atmosfera che tu crei. Dire proviamo, magari può essere bello. Sì, poi alla fine è una storia che, tolti i personaggi eclatanti del Drago, dell'Umbria, oppure queste situazioni in questo palazzo con tutti i riflessi, non ci sono lampade ma ci sono dei sistemi che riescono a rendere chiaro tutto quanto, è affascinante. Alla fine cercavo comunque di dare una storia che avesse un minimo di intrigo, che potesse appassionare il lettore, che desse l'idea di dire, e qui cosa succede adesso? Non volevo dare solo uno sfoggio di fantasia, guerre, battaglie, mostri e tutto. Vabbè, anche ci sono dei passaggi che non sono niente male. Ad esempio c'è la moglie di questo re di Siena, che è un personaggio che riserva a un certo momento del libro una bella sorpresa. Una grossa sorpresa. Sì, una grossa sorpresa, che non possiamo svelare perché questo si è... Ma è l'inizio di un grosso colpo di scena che si riverserà più avanti. Ma tu sei già così avanti con la tua fantasia. Sono più di così avanti. Senti, hai mai pensato che questa cosa possa essere letta da qualcuno interessato a farne un film? Perché sinceramente a me sembra che tu abbia scritto sia quasi il copione di una scenografia, la sceneggiatura, scusami, la sceneggiatura di un film. Sarebbe una cosa fantastica, non c'è niente da dire. Ci hai pensato. Fin da quando ho iniziato a scrivere. Ah, vedi, perché ci sono delle cose che si capiscono. Se uno ha una certa confidenza con la lettura, si riescono ad intuire. Sembra che tu voglia proprio dire ti piace questo personaggio. Vero, ma forse anche l'aver visto molti film nella mia vita, un po' condizionato la scrittura. E l'occhio di chi scrive magari era proprio simile all'occhio che avrei preferito avesse il lettore. Quindi, dato che molti, anche come hai fatto te adesso, molti pensano alla possibilità di fare un film da questo libro. Ne ho sentiti molti miei amici, molti che hanno letto, che hanno detto. E se fanno un film? Eh beh, sarebbe un bel colpo. Avrò il prestigio di averti intervistato prima che ciò accada. Allora, intanto, prima di andare alla chiusura, perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, secondo il mio parere, è un libro molto divertente da regalare ai figli, ma probabilmente se i figli lo lasceranno sul comodino, perché si sa che un libro regalato difficilmente viene letto, bisognerebbe generalmente comprare i libri, ma chi lo ha regalato sicuramente passerà del lino e lo prende. Comincia a leggere le prime pagine, magari anche con un po' di sospetto, insomma, se mi interessano, e poi un po' alla volta andrà avanti e sono certo che è un libro che vi conquisterà questo regno di Avaros. C'è da dire che il buon amico ha una fantasia non solamente nella scrivere il libro, ma anche nel promozionarsi. Perché io sono venuto a conoscenza di questo libro, spiegalo tu in che modo. Perché ho trovato? Beh, prima di tutto, prima di entrare in questo argomento, ci tengo moltissimo a ringraziare un mio caro amico che mi ha dato una mano per la pubblicità e per la promozione. Che si chiama? Si chiama Eric Fersuok, che ha realizzato volantini, ha fatto pubblicità, mi ha organizzato eventi in tutto il bellunese quasi, e si sta impegnando tuttora. Comunque, oltre al suo aiuto, al suo prezioso aiuto, grazie alla casa editrice sono andato alla fiera del libro a Torino, dove ho presentato il romanzo. Hai avuto un riscontro? All'inizio è stato molto d'aiuto come modo per divulgare la notizia, è stata un'esperienza che ha rivoluzionato la mia vita, perché non ero mai stato intervistato né niente e sono andato così. Vediamo come va. Però ecco, perché tu stai eludendo la mia domanda, che tu hai lasciato in giro questi manifestini, che potevano contattarti attraverso la rete, quindi tu hai fatto della rete il tuo primo punto di vendita. Sì, tramite rete, dove si può comprare il libro su Amazon o sul sito della casa editrice, della Book Sprint Edizioni. Poi c'è stato un secondo volantino, su cui abbiamo messo i nostri personali numeri, diceva io che Eric, con i quali contattarci e chiedere una copia autografata. Io quando ho visto questo volantino ho pensato che questa persona dovevo proprio conoscerla, perché una capacità, una determinazione come questa non può non essere resa nota, non può non essere promozionata, perché ci vuole anche un bel po' di faccia tosta, è guai a non avere faccia tosta, se altrimenti non si arriva da nessuna parte. Quindi ti faccio veramente i complimenti, io non posso che sinceramente consigliare di regalare, ma ancora meglio se andate in libreria con vostra figlia, con vostro figlio, e glielo fate scegliere. Si divertiranno e sono certo che potreste divertirvi anche voi, anche se ritenete di non avere l'età per leggere queste cose, ma non c'è mai età per leggere qualcosa che ti porta in un mondo di fantasia. Tanti complimenti Nico e spero che anche questa trasmissione che abbiamo fatto ti aiuti a farti conoscere un po' di più. Ringrazio ancora di cuore. Siamo stati con Nico Frena, l'autore di Il Regno di Avaros, La strega, lo spettro e il paladino, che sono i tre protagonisti che hanno queste caratteristiche, leggendo il libro poi capirete come, e assieme a loro ci sono tanti altri affascinanti personaggi, come questa conduttrice dei tre ragazzi dal mondo reale al mondo parallelo, che si chiama Mouta. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.